Avatar, la via dell'acqua, recensione in un minuto di questo film mastodontico ragazzi, per me Avatar 2 è mastodontico, visivamente è una cosa che io non ho mai visto al cinema, dal primo Avatar se lo ho anche di più, cioè Science Camera è un segno, visivamente è una roba mostruosa e questa è una cosa oggettiva. Poi per quanto riguarda la durata, sono gusti, a me sinceramente le 3 ore e un quarto di durata non sono pesate, anzi mi sembra tutto molto bello, visivamente la trama è molto semplice, ma ha funzionato meglio qui che nel primo film, nel primo film la trama veramente era introduttiva fin troppo, a certe parti mi stavano annoiando, certo si poteva tagliussare un po' qualche senetta, qualche sequenza che non serviva in questo Avatar, però nel complesso è un film che si fa vedere veramente tantissimo, i protagonisti principali mi sono pensi di tutti, inclusi anche i figli di Seike e Natiri, la parte acquatica la stiamo a perdere ragazzi, se la spiegazione dell'ecosistema subacqueo, dal pesce più piccolo al pesce più grande, come esistono quelli del villaggio dell'acqua, il popolo dell'acqua, che sono diversi, è un colore diverso della pelle, un linguaggio diverso, è tutto veramente incastrato a dovere, tassello per tassello, ripeto la trama non sarà chissà che cosa, è molto semplice anche fin troppo direi, però ha delle ramificazioni che non mi sono dispiassute, quindi nel complesso Avatar 2 è un film che aspettavamo da tanti anni, e secondo me le aspettative sono rimaste alte, Noi c'è una prossima videocenzione, andate a vederlo assolutamente in sala, perché è un film da vedere sul grande schermo, non in streaming e non recuperato nessuna parte, neanche se poi si era in DVD e Blu-ray, ma manco il Blu-ray vi fa arrivare questo livello di esperienza, è un film che veramente mi ha fatto piance, mi ha commosso, mi ha trasportato su Pandora, Insomma ragazzi, guardatelo, perché merita veramente tantissimo, l'ho auto-operata alla Via dell'Acqua, è un otto e mezzo, piccolo riferimento anche ai titoli di Coda, che sono bellissimi, E soprattutto, se è una canzone di weekend, mi ha fatto veramente piacere e sentire, ma soprattutto ricordatevi anche una cosa, non si sono le sene post-create, quindi questo film è autoconclusivo, Io aspetto il terzo capitolo come non so che cosa in questo momento, speriamo che tra due anni passano in fretta, visto che lo vedremo tra due anni in terzo capitolo, Speriamo veramente che passino veloci, innanzitutto però per questi due anni, Buffett TV accompagna con altre recensioni, tranquillamente, Chiudendo, Avatar, la Via dell'Acqua, è una piccola perla, è un bellissimo regalo di Natale, da vedere con tutta la famiglia, merita, 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 Voto, otto e mezzo, e noi ci vediamo alla prossima video recensione, ciao a tutti!